Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora l'alta pressione ben salda sull'Europa centro-meridionale, quindi sul Mediterraneo e sull'Italia. Ancora la situazione non si sblocca, significa ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Controvermo la nuvolosità attesa sul nostro paese, come vedete non ci sono sistemi nuvolosi importanti che transitano sulle nostre regioni e quindi anche con le precipitazioni nulla da segnalare, non succede un bel niente, un po' di umidità comincia a farsi sentire sull'Alto Tirreno e Liguria ma senza conseguenze. Quindi ancora una volta giornata con tanto sole in gran parte del paese, qualche nuvola dicevamo tra Liguria e l'Alta Toscana, temperature che iniziano sì a perdere qualche grado, non arriveremo più a punte record, ma ancora una volta stiamo parlando di valori ben oltre le medie stagionali, punte fino a 27-28 gradi, davvero è troppo. Per sapere a questo punto per quanto andremo avanti così consultate l'app di Trebi Meteo.